Ma è tu Tito vai? Ma perché devo andare io? Vedi come è fatto? Fa parlare a me, fa scrivere a me, mi fa dire le parole. Com'è nato? Nel mio caso sono arrivato a messo un salito sul treno che era già in corsa. Ho incontrato Giorgio Ciccarelli che non vedevo da molti anni, ma davvero tanti, si parla di decine. Nel backstage di un concetto dei color moves, gruppo riformato che esisteva già nella metà degli anni 80, giù di lì quando era Giorgio, ci frequentavamo nella Milano Indipendente Alternativa Musicale, quelle cose di dove sono cresciuti tutti, e ci siamo parlati dieci minuti durante i quali ci siamo, no ma cinque minuti a testa in realtà, ci siamo riassunti quei oltre vent'anni di vita, anche quasi trenta che erano passati, e gli ho raccontato delle cose che scrivevo, mi ha raccontato delle cose che stava scrivendo anche lui, che stava componendo, mi ha raccontato, perché no, si può dire anche la verità su quello che gli era successo nell'ultimo anno, e basta, basta, sembrava così. Poi ci siamo scambiati i numeri di telefono, e lui dopo qualche giorno mi ha mandato un messaggio mentre ero in bagno, questa cosa non te l'ho mai detto, mentre ero in bagno per farmi la barba, l'ho fatto mezza barba, in cui diceva se gli scrivevo i testi del suo disco solista, e io gli ho risposto sì, volentieri, cioè è una cosa così, veramente tuffarsi e poi imparare a nuotare. Forse ci sono, una cosa veramente... Sì, una roba così, dovevo finire di radermi dall'altra parte lì. Io infatti non capivo se mi prendeva in giro oppure no, no, da parte mia devo dire che in realtà ero già a un ottimo punto con tutti i pezzi, avevo già iniziato anche a scrivere i testi, è solo che sentivo il bisogno di avere uno sguardo diverso da quello che ho sempre avuto io, sul mondo in generale, e quindi avevo proprio la necessità di confrontarmi con qualcuno, anche perché questo disco fondamentalmente l'ho registrato io, l'ho suonato io, e non avevo confronti. Questa cosa è nata così proprio anche per caso, perché dopo quella famosa sera io non pensavo a lui come un eventuale scrittore di testi. La mia compagna proprio quella mattina mi dice perché non chiedi a Tito? Ma certo, perché non ci ho pensato prima? Scritto, sms, in quell'istante lui mi ha risposto, e da lì è nato tutto. Gli ascolti, non ci sono dei riferimenti, o meglio, i riferimenti sono i miei ascolti di sempre, io ascolto musica da quando sono bambino, ascolto tutti i generi, non c'è stato un punto di riferimento, anche perché sono brani che sono nati non nell'ultimo anno, molti sono nati due, tre anni fa, e in realtà avevano anche delle destinazioni differenti. Poi a un certo punto me li sono trovati in mano e ho iniziato a lavorarli. Di solito quando si fanno i dischi, almeno io non penso a qualche artista in particolare, mi concentro, punto e basta, sulla canzone per farla venire il meglio possibile. Io non ho mai abbandonato l'esperienza solista, perché faccio musica nella mia cameretta da solista da quando sono bambino. Poi effettivamente negli anni ho fatto i gruppi, ho cantato, ho cantato nei gruppi, per cui non è stata un'esperienza nuova, è stato solamente un... è stato naturale per me, perché anche quando facevo i pezzi per gli after stessi, nei provini vari, io cantavo i miei pezzi e poi li presentavo. Quindi del tutto naturale, tutto del tutto naturale. Vado io? Vai tu. Allora, è successa questa cosa. Giorgio, dopo quel messaggio, ci siamo anche telefonati, ho finito di farmi la barba, poi l'ho chiamato, mi ha mandato tutti i pezzi finiti, almeno dal punto di vista musicale, cioè dei provini veramente molto avanzati. Alcuni di questi provini sono ancora molto affezionati, ogni tanto li sento, hanno quella cosa che, se fosse un fumetto, è il calore della matita, prima che ci metti l'inchiostro, i colori, no? Non puoi pubblicare così le matite, però hanno un calore particolare che tu senti. Quindi me li ha mandati tutti, alcuni erano già cantati con dei testi in italiano, altri erano con dei testi in inglese. Fra l'altro poi gli ho chiesto di ricantare quelli in italiano e in inglese, o con dei numeri che li ha cantati in una specie di inglese fasullo, perché comunque c'erano delle rime, delle assonanze, delle cose che mi rimanevano inchiodate in testo. Ho fatto un po' un lavoro come quello che, da una parte è un lavoro autoriale, perché ci ho messo dentro naturalmente delle cose mie, con la mia visione di come va fatto un testo in generale, a prescindere che sia un testo di una canzone o un fumetto di un romanzo, cioè quindi nella mia visione in cui non devi mai nasconderti, che sia un messaggio devi dirlo immediatamente, che non serve fare dei giri di parole, ci devi arrivare dritto, cioè sono testi secondo me inequivocabili. E dall'altra però ho fatto un lavoro, dicevo, simile a quello che fa un editor, con un autore di romanzi, cioè l'editor ti dice che ti conosce meglio di te stesso. Io ho cercato di conoscere Giorgio meglio di come lui si conoscesse, cioè di capire che cosa voleva raccontare esattamente. C'è per esempio la canzone che dà il titolo al disco Le cose cambiano, che ha una gran parte del testo che ha composto originalmente Giorgio. Io l'ho aiutato a metterlo a fuoco, a metterlo a fuoco quello che pensava lui, il discorso sul cambiamento, sulla resistenza di un uomo che deve rimanere se stesso quando le cose cambiano, a mettere a fuoco le cose. Alcuni testi li ho composti integralmente, ma comunque sempre pensando al fatto che li avrebbe cantati Giorgio, che ci sarebbe stato qualcosa dentro del suo spirito. Un'altra cosa che voglio dire, abbiamo lavorato molto assieme. Sono andato da lui, ci siamo messi fianco a fianco, abbiamo lavorato, il lavoro che ho cercato di fare non finiva, non è mai finito a mandare il testo e poi sentire se funzionava bene. Sì, un work in progress. Lavorare sull'interpretazione, cercavo di dirgli guarda questo testo e ho voluto raccontare questa cosa che secondo me ti può interessare. quando racconti che devi metterci questo tono, secondo me è un uomo che sta pensando questa cosa mentre dice queste parole. Spero che sia stato un lavoro utile, ma penso di sì. Guarda il risultato. Infatti. Intanto vi faccio vedere questa cosa che è bellissima, cioè questa cosa che ne equivocabilmente è un cd, ma è un po' più grosso. Voi lo apriete, tirate fuori questo libro, a questo punto stiamo parlando di un libro, che è pieno di illustrazioni, di fumetti, di contributi. Io sono abituato a dare indicazioni tassative ai disegnatori, faccio il sceggiatore, alla fine è tutta una cosa di descrivere quello che loro dovranno mettere sulla pagina. Questa volta ho fatto una cosa diversa, ho mandato ciascuno, innanzitutto ho scelto un pezzo che fosse per alcuni una sfida, per alcuni una cosa che assicondava il loro stile, perché ogni tanto era bello stimolare qualcuno a fare qualcosa di diverso. Qualche volta invece è giusto seguire le sue intonazioni, quindi per tutti ho scelto in base a questi due ragionamenti anche opposti apparentemente, qualcuno sfidandolo qualcuno assecondandolo. Ho affidato i pezzi e a tutti ho detto fai quello che ti viene in mente sentendolo, quindi questa volta ho lasciato tutti andare a brilla sciolta, seguendo le loro inclinazioni. La cosa che ho fatto che in qualche modo comunque ha governato in una maniera discreta diciamo così il disegno è proprio questa cosa di affidare a ciascun disegnatore qualcosa che mi sembrava potesse stimolarlo nella direzione giusta. E certi hanno veramente, anzi tutti devo dire che hanno beccato alla perfezione lo spirito del pezzo. Quindi è una cosa sorprendente questa. è la visione di una cosa da più punti di vista. Dal punto di vista del musicista, dal punto di vista dell'autore del testo, dal punto di vista del disegnatore. E questa è una cosa entusiasmante per certi versi. Pensate che noi invece io e Giorgio quando questo si può dire abbiamo in mente un progetto molto scalo all'inizio. Ma non è va benissimo come è andata. Cioè io e Giorgio ci avevamo trovati in un momento tutte e due per strade diverse che avevamo una cosa per cui volevamo rimuovere qualunque come di infrastruttura. Non so come definirla, no? Sì, sì. Cioè siamo partiti da un'idea di testi molto chiari, musica diretta, qualunque pulizia da un concetto di rock inteso come un po' baracone si può dire, no? E siamo arrivati da un'altra parte diversa ancora che non ha nulla di baracone. Il progetto ci ha preso la mano. Sì, no, infatti che è una produzione invece che prende dentro tante cose assieme. Musica, parole, disegni, immagini. Poi abbiamo trovato la casa giusta per farlo. Assolutamente. Diciamo che tutti i pezzi fondamentalmente nascono con la chitarra acustica nella mia cameretta. Una volta era una cameretta, adesso è una camerata lenta. Beh, nascono appunto con la chitarra acustica e me la canto, me la canticchio, eccetera. E poi piano piano, mattone su mattone, costruisco, metto insieme e metto insieme anche poi alla fine la voce, un cantato. Delle volte mi viene un testo e lo butto giù e lo canto, delle altre mi invento un inglese maccheronico e alla fine i provini che ho mandato a Tito sono proprio questo. E il frutto, la costruzione di tutti questi mattoni con su la voce e li ho dati a lui. E lui ha sostituito l'inglese maccheronico oppure il testo o anche ha tenuto delle cose dei testi e ne ha elaborato uno nuovo. L'idea di partenza mia è stata quella mi sono obbligato ma senza sforzo a tenere il più possibile. Anche solo una suggestione, un'idea, una parola, a tenere comunque un vocabolario comune. Alcune parole tornano in vari pezzi. Spero che sia una cosa che l'ascolta sentirà. Ci sono parole particolari che in più di un pezzo tornano, si richiamano alcune. Come a dare l'idea di un progetto comunque con la sua organicità. Infatti sono anche avanzati dei pezzi e sono alcuni giorni che mi sto dicendo devo andare a risentire i pezzi lì e sentire perché ragione. Ma Giorgio poi è venuto in maniera naturale che fuori da 17 che erano mi sembra, 17. Sì, sì, sì. sono diventati 12 ma gli altri 5 non avevano nessuna particolare colpa. È stata una questione di equilibrio. Materiale per il prossimo disco. Esatto. Grosso, però vale la pena. No, 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 dai. Parlo io per te. Parla tu per me. Parla tu per me. Per rinascere bisogna prima morire è troppo pesante. Le crisi nella vita rappresentano quasi sempre un aspetto positivo. Cioè, tutti noi le temiamo le temiamo terribilmente ma rappresentano quasi sempre un momento di crescita di un cambiamento positivo. qualcosa che ti levi di dosso quindi in realtà sempre una piccola morte a cui va incontro che però è una rinascita. E rinascere contiene di per sé l'indicazione di che cosa avviene prima. Per rinascere ovviamente devi prima morire devi passare attraverso questo annullamento che è la più grossa paura devi affrontare la più grossa che è la paura che abbiamo tutti che è quella di una morte. Io credo che Giorgio abbia vissuto un momento di crisi di una crisi che non si è andato a cercare che si è ritrovato a cui ha potuto resistere e che gli ha permesso una rinascita come artista e poi alla fine sai parlare di se stessi come artisti vuol dire parlare di se stessi come uomini perché le cose sono veramente troppo vicine chiamare questa cosa che facciamo entrambi e altre persone chiamarla un mestiere che è un po' alla fine un po' anche riduttivo sì diciamo che dalle ceneri nasce sempre qualche cosa per cui questo è il senso quello che viene dopo è sempre qualcosa di diverso e molto spesso ti devi mettere in gioco e questa cosa è davvero positiva per certi versi questo è un po' il senso per me di quella frase è un po'